Seconda lettura di Donne senza nome di Cesare De Simone, comitato delle fate che leggono. Eravamo arrivati a pagina 12, seconda lettura, leggiamo, riprendiamo da alcune righe sopra. Poi udiva Sandro, poi udiva voci di donna a chiamarlo. Sandro stava facendo un sogno, come ricorderete se avete ascoltato la prima parte. Allora Sandro udiva voci di donna a chiamarlo, voci distanti ma nitide. Lo chiamavano dolcemente, erano voci allegre e amiche, voci che provenivano dal ponte di ferro, verso cui istantaneamente si dirigeva. Il richiamo aumentava, diveniva come un flusso canoro. Gli diceva, vieni, spicciati, siamo qui, eccoci. Lui si inoltrava e scorgeva aprirsi finestre sui grandi muri adesso bianchi dei palazzi oltre il ponte, finestre illuminate dal sole con vasi di gerani, mentre sul greto del fiume spuntavano cespugli verdi e alberi e persino la sagoma nerastra metallica s'aggraziava. Vieni, eccoci, dicevano le voci delle donne. E lui d'un tratto scopriva che non erano state fucilate, che erano vive, poteva avvicinarsi e conoscerle, parlare con loro nel sole. E gli esplodeva una gioia da sempre attesa, una felicità talmente limpida da risultare insopportabile. Così si svegliava. Si ritrovava seduto sul letto, sudato e ansante. Si accendeva una sigaretta nel buio, badando a non svegliare Marina, che gli dormiva accanto, smaltiva il sogno, l'angoscia e la gioia, facendo il punto sul lavoro fatto e sulle ricerche in corso. Sentiva il respiro quieto di Marina, fissava il puntino rosso della brace della sigaretta, che forava l'oscurità tiepida e familiare della stanza da letto. E gli tornava in mente che da qualche parte della città c'erano quei dieci scheletri di donna. Scheletri calcificati, terrosi, in chissà quale fossa dimenticata. Scheletri Alciti, ignoti, come i nomi e i volti che erano loro appartenenti quando erano in vita. Non era una ricerca facile, e ogni tanto la sua ossessione di ritrovare quei corpi e quelle storie si faceva cuda, in una diaspora di emozioni, parossismi e scoramenti. Era allora che avvertiva il bisogno di tornare alla spalletta del ponte di ferro, a guardare il luogo dove la storia era iniziata, in un giorno dell'aprile 44, per attraversare i decenni e giungere fino a lui. Si sentiva come un bersaglio, un bersaglio prescelto e centrato da una freccia che il destino insopportabile aveva scoccato mezzo secolo prima dalle arcate del ponte dell'Ostiense e che aveva viaggiato negli anni delle città mutante e l'occupazione nazifascista. La liberazione, il tumultuoso dopoguerra, la Repubblica, la crescita dei nuovi quartieri, l'inurbanizzazione degli anni, quelli degli anni 50 e poi 60, le nuove mode, i nuovi colori, le automobili, le vetrine, la televisione, la metropolitana, le grandi periferie, le olimpiadi del 60, gli anni santi, il giambo in atterraggio a Leonardo da Vinci, il big bang del traffico, i fast food, il terrorismo e le BR a via Fani, già le BR a via Fani, il formicaio del litorale nelle domeniche d'estate, eccetera, 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 eccetera. A me lo raccontano due compagni di Monteverde. Avevano partecipato all'assalto. Non ricordo come si chiamassero. Figurati, sarà stato, vediamo, guarda, era la prima o la seconda riunione di donne comuniste. Giriamo pagina. Facemmo nel salone della Federazione Romana del partito, allora stava in piazza Sant'Andrea della Valle, dunque, ottobre o inizio novembre 44, «Figurati!» gli disse Carla C. Carla aveva combattuto i tedeschi dentro Roma, nei GAP, ed era stata decorata di medaglia d'oro al Valor Militare. Venne poi eletta a Montecitorio per le prime tre legislature. Adesso aveva 76 anni, camminava a curva appoggiata a un bastone e aveva bisogno degli occhiali per leggere e non gliela faceva assalire le scale, ma il suo nome di battaglia, Elena, era stata una leggenda, nei mesi dell'occupazione nazista. «Non ti fecero i nomi delle dieci donne? Ti diedero qualche elemento per poter iniziare una ricerca?» «Che so, da dove venivano?» chiese lui. «No, che sfortuna, vero?» Nemmeno loro due sapevano come si chiamassero. Mi raccontarono che l'assalto al forno T6 ci fu verso le dieci di mattina e poco dopo arrivarono le SS, chiamate dai fascisti della PAI, per presaglia, visto che diverse ceste di pane erano state portate via dalla folla. Presero dieci donne, le trascinarono sul ponte e le fucilarono. Le presero a caso, o le scelsero tipo decimazione? Non lo so. Non me lo dissero. Sul ponte dove esattamente le uccisero? Non lo so. Anche qui non ricordo se mi raccontarono questi particolari. «Ma credo di no!» proseguì Carla C. «Quando entrai alla Camera nel 1948 organizzai un comitato unitario delle donne elette. Ne facevano parte anche le democristiane e prendemmo l'iniziativa di mettere una lapide sul ponte di ferro. La scritta non la ricordo. Diceva comunque che gli tedeschi avevano fucilato dieci romane, dieci madri di famiglia che chiedevano pane. Chiedevano pane. Questa è la seconda lettura. Poi continueremo a leggere con le altre fate questo libro per scoprire un po' i misteri i misteri di queste donne. Chi erano? Chi erano? che volti avevano? Grazie a tutti.